O dolce Regina di grazie ed amor, speranza divina del nostro dolor, Ave Maria, Ave Maria, su noi la Materna tua man si posò, Dell'ira superna le frecce spezzò, Ave Maria, Ave Maria. Freve all'uragano gli abissi oscillare, ma quella tua mano ci indusse a sperare, Ave Maria, Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. A maggior gloria di Dio e ad onore della Beata Vergine Maria, recitiamo il Santo Rosario, meditando i misteri della gioia. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'Angelo a Maria. Al sesto mese l'Angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una Vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Allora Maria disse, Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'Angelo si allontanò da lei. Padre nostro che se nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte... Amen! Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi... peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen! Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli, Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grello. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce, Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Allora Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore. Padre nostro che se nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, ameno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, ameno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che se nei cieli sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Simeone li benedisse, e a Maria, sua madre, disse, ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Padre nostro che sia nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Padre nostro che se nei cieli sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamos, exules filie, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum balde. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordiae, soculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fruttum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria. Secondo le intenzioni del Santo Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Facci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal mare. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, amato di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte, ame. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli, ame. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudisci, Padre del Cielo che sei Dio, Abbi pietà di noi, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Abbi pietà di noi, Spirito Santo che sei Dio, Abbi pietà di noi, Santa Trinità unico Dio, Abbi pietà di noi, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre delle Grazie, prega per noi, Figlia prediletta del Padre, prega per noi, Gloria del tuo popolo Israele, prega per noi, Donna che hai creduto all'annunzio, prega per noi, Donna che hai accolto il Signore, prega per noi, Vergine dal cuore umilissimo, prega per noi, Vergine ricolma dello Spirito, prega per noi, Vergine feconda come sposa, prega per noi, Vergine e Madre purissima, prega per noi, Madre che hai portato il tuo Dio, prega per noi, Madre del Signore Gesù, prega per noi, Madre del Signore crocifisso, prega per noi, Madre del Signore della gloria, prega per noi, Tu sei la sorella di noi tutti, prega per noi, Tu sei la discepola di Cristo, prega per noi, Tu sei la maestra dei credenti, prega per noi, Tu sei la regina degli apostoli, prega per noi, Madre della Chiesa in preghiera, Madre della Chiesa in cammino, Madre della Chiesa che annuncia, Madre della Chiesa che soffre, Madre ti preghiamo per il mondo, Madre ti preghiamo per la pace, Madre ti preghiamo per chi nasce, Madre ti preghiamo per chi muore, prega per noi, fiore della nuova creazione, prega per noi, raggio dell'eterno mattino, prega per noi, volto della gioia del Signore, prega per noi, festa della casa di Dio, prega per noi, madre ti preghiamo per il mondo, prega per noi, madre ti preghiamo per l'Italia, prega per noi, madre ti preghiamo per la nostra Chiesa diocesana, prega per noi, dona a noi tutti la salute, prega per noi, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Supplica la Beata Vergine delle Grazie Fidenti e devoti, veniamo a te, o Madonna delle Grazie, madre di Dio e madre degli uomini. I nostri padri, affritti da tanti mali, a te si rivolsero e ne furono soccorsi e consolati. E se spaventano i terremoti e le pestidenze, oggi più ci sgomentano le potenze dell'inferno e le malizie di uomini che vogliono sedurre le anime con l'insilio dell'errore e pervertirle col fango della corruzione. Accorri ancora il nostro aiuto, Vergine potente, conservaci viva la fede, puri i cuori, e poiché il vero male del mondo è il peccato, ottienici il dono di detestare le nostre colpe e di non perdere mai più la grazia di Dio. Chiediamo infine alla tua grande bontà che non ci manchino la salute, la casa, il lavoro, i frutti dei campi e i sacerdoti, e che sempre ci sostenga la fiducia nella paterna provvidenza del Signore e nella tua materna protezione. Amo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione della Beata Vergine Maria, Madonna delle Grazie, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Gli affanni la peste ci afflisserò un dì, ma un manto celeste farenza coprì. Ave Maria, Ave Maria, Dall'Ari decime al piano oggi ancor, faenza ti esprime l'antico fervor. Ave Maria, Ave Maria, del nome tuo suona il nostro pregar. Ave Maria, Ave Maria, degli uomini il pianto sacque dai tuoi piedi. Degli angeli il canto sin ebria di te. Ave Maria, Ave Maria.